Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento dai nostri previsioni per la giornata di giovedì. Attenzione, giornata molto variabile e instabile per colpa di due perturbazioni, una che già si troverà sull'Italia, specie al centro-nord, e poi un impulso atlantico che alimenterà nuove precipitazioni. Lo vediamo anche dalla previsione della nuvolosità, con nubi in gran parte del nostro paese, più o meno estese, più o meno compatte, ma poi ecco quest'altra perturbazione che alimenterà queste precipitazioni già arrivate con la prima. In effetti la previsione delle piogge parla chiaro, con macchie azzurre al centro-nord, quindi piogge sulle regioni tirreniche soprattutto e sulle regioni settentrionali, ma a fine giornata arriveranno anche dei temporali portati dalla perturbazione atlantica. In definitiva, giovedì molto variabile e instabile al centro-nord, soprattutto versante tirrenico e regioni settentrionali. Nuvole che vanno e vengono, ogni momento è buono per qualche piovasco, qualche acquazzone, però alternato anche a delle pause con qualche parziale schiavita. Poi a fine giornata però situazione in ulteriore peggioramento per la perturbazione atlantica. Il sud invece sì, vedrà un po' di nuvole di passaggio, ma anche con ampie zone di sereno e al sud anche molto caldo, pensate che in Sicilia potremmo anche superare i 35 gradi. Per sapere nel dettaglio però cosa capiterà proprio da voi, consultate l'app di Trebi Meteo.